1 2 2 il posto tory o povera perché volare no che carino e la città infatti è un'attività ma che devo fare no 4 e quindi dobbiamo salire concentrazione arriva la navicella di lettura è così grande? no è un po' piccola mi sa no la cazzola è bellissima non avrei mai immaginato di vederlo su un sbarolo merda ma come quanti ce ne sono? arrivano ci vogliono salvare vediamoci c'è c'è terreno un po' bus aia ma i brividi ehi sei affidato no 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 non dirmelo che figo però che figo però ha vincito ha vinciuto lui e ma perché si è affidato oh ma perché ma tornate in basso a tornare fastidio che ti spinge madonna l'antone dell'infanzia aiuto aiuto saliamo sul millenio io voglio vedere da lontano scende qualcuno mi sa no finito no ma che cazzo oh no oh no Ciao a tutti in Fortnite, io sono Jeff Keighley Oddio! Ma c'è veramente lui? Sì Un visitatore in gioco e cravatta Cosa è quella roba? Uuuuh, la vostra emoto preferita ha detto di fare Dottor Lupo, Willyrex Dottor Lupo Cosa è successo? Ha, no, perché nessuno ha detto di signature For the first time inside of Fortnite, JJ Abrams will be here, and we're gonna show you a scene from The Rise of Skywalker But wait, uh, who's this? OOOHHHHHHHHHzy I am a stormtrooper, but I'm also a person, you saw me moonwalking down here, how is everybody? Let's move! Let's all dance in the moon! We're all doing pretty cool I was expecting JJ Abrams Uh, well, he's in there, he's in there, he is my closest friend in the universe So I made sure he's good and in there That was a kind of weird trip up there I was in the bathroom the whole time What happened? How did we land? I don't know how you got on And let him fall from the first place Sneaky Thank you for saying I'm just very good at my job Look at me Mark Look at me Mark Look at me Mark Look at me Mark You know what I mean? You're an excited star Are you in the back? Oh thank you for I would love to plug my own film It's Star Wars I am in this film I believe I did one scene And JJ was so blown away By me in the background He was like Okay we're going to keep Putting you in You're my closest friend I don't know I don't know I hope JJ is actually He's going to be here I mean I can bring him out I mean I can bring him out I don't know I don't know I think we bring out JJ right now Let's do the weirdest of mode we can If we want to bring him out Okay But who is the hologram? Ta 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 The hologram is The visitor with the smoking Yeah For the stage J J J Abraham Oh my God Oh my God That is really him Hello Fortnite Oh my God Oh my God You look at that one time You've been working Your legs look amazing JJ But all with those emotes I'm doing You can tell on your legs You can tell on your legs I like to say hello to everyone in the world Hola And bonjour Oh wow Hola Quello c'è un emoto che non è mai uscita No 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 This is me Oh Eh Si sta facendo veramente cazzo Oh Oh sorry He's still going Oh Salam Hey Oddio Se si c'è per me due potete guardare meglio It's amazing to be here Look at this This is incredible Ah come Da me che mi... Ma se guardo Non posso ballare Ah yeh My god I love you You look great as yourself But if we change Ah yeh Oh Che che vedete Vanno schimile Ah Ma perchè non hai sentito quello che devi Cioè non hai capito quello che devi Ma quel è un coso da DJ? Ma che falle che tutti saltano davanti Ok Ok comunque l'hai chiamato un po' fa perchè la seconda troppo perché abbiamo io e Daniele sono quelli della generazione prima di quello che ti trasformato adesso io che ti trasformato questo è mio fantasy la cosa che ti trasformato è che ti trasformato sui una cosa che ti trasformato e che ti trasformato sono un po' di soliloquia che ti trasformato un po' di soliloquia un po' di soliloquia che ho potuto in questo film che ci trasformato ci sono solo solo o più in cui è il nostro per i tuoi la prima volta che io vi ho avuto il mondo come se non fai sempre tuoi a volte su di più non c'è la proposta con gli aspetti mamma forno sulla città di mannanzo il testo il carico per favore se non c'è la città di me la scala di stessi per cui si ma il problema è che stacosa la possono far durare un bordello ma io non ho tutto studente vabbè te l'ho dato il giudice ma non voglio solo il giudice io non so come ci avrebbe ma non so come ci avrebbe ma non so come ci avrebbe ti sbaglio da questa parte è in diretta buon giuro interagire di un'auto in un'auto corpidità fredda scegliere come un inizio ok fissi ok figo 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 tutto il mondo oddio giratevi giratevi no ma ti lo sta dicendo cazzo ma non si è mica gli altri non capito secondo me tipo daniele Cosa c'è nella scena? Eh sì, che cazzo ne so io? D'Art, Genova? Che fate il Velo Viola? Pure io Abbiamo vinto, Ivan Voglio il coltro per il Velo Viola per questo Oh, Dio, mi farò fare del Capcom Oh, via, fatemi La scena Boh, bruh, error 404, schermata blu Ma mai la sta facendo vedere Cosa? Non c'è un cazzo sul video Ah, quindi solo io non la sto vedendo Dato che tutti stanno fermi Solo io non la sto vedendo Fantastico Vorrei tanto sapere il perché Solo io non la sto vedendo Che cosa sta succedendo? Non ho visto niente Che è successo? Che c'era lo sentro perché era morto E il tizio ha detto Hai visto? Ero io quello No, ma che è successo nella scena? Ti ho fatto vedere nella scena dove ci sono i protagonisti Non è di particolare come me? Sì, ma perché tutti erano fermi E quindi a tutti è partita Tranne che a me Oh Ciao 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 Oh, un'altra domanda Una lasta, ha detto L'ultima Oddio Viola, viola 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 Tutti viola Tutti viola Tutti viola Tutti viola, ti prego Sì, sì, tutti Viola vince Viola! Che non esiste manco Viola Noo! Oh! Lo sapevo! Non lo sapevano? Ci hanno sparati Loro? Ci hanno lasciato il cretto con la spada viola? Ci hanno lasciato il cretto con la spada viola? Beh Qui sono andati? Il cretto con la spada viola? Subito! Il cattivo! Il cattivo! Il cattivo è quello, Angelo! Chi? Quello che ti ha fatto vedere! Ah! Quello col cappuccio? C'è un giorno sul Dio dei S.C.I.S.I.S.S.I.S.I.S.T. I.S.I.S.I.S.I.M.I.S.T. credi credi cosa ha preso la squadra della serie viola si viola oggi ma facciamo ognuno ha preso quella che ha votato